ciao ragazzi eccomi qua come potete vedere ho preso trek lab con il season pass che mi faccio vedere i codici come fare l'unboxing ho scusato i cani questi qua sono un po' così non è ci riusciamo così ragazzi ci aggiorniamo e facciamo così c'era un gioco non abbiamo le attrezze attrezzarmi di una favola c'è qualcosa non c'è altro scusi edifici da 30 mi ricordavo così difficile poi ho già pagato il tipping dog la versione con la completa con tutto l'espansione deve essere anche venerdì ma invece vado a scelta una fidanzata a prendere tutti i mercchi ragazzi poi il video meglio la capocchia sto aggiornando al che 3ds che ha detto ha messo rispondi possono essere rispondi certe pagamenti certino prima vediamo se c'è qualche cosa c'è no ok questo il gioco questo cd di gioco queste sono piccole istruzioni se c'è qualcosa non lo faccio vedere ma non c'è questo è una pubblicità che ti dice che la tua club e ricchiuta i tuoi amici via ricevi sfide il tuo successo è successo del tuo club cosa sono indicazioni carta da cura un certo ecco qua cose cresci questo è l'unboxing di dry club ragazzi semplicissimo lo so con i toni per i migliori problemi accontentiamoci delle forme adesso scaricherò il passo stagionale che ti da 37 vetture eccetera 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 qua si sta aggiornando quasi finito possa mettere tutti gli spondi che vogliamo e poi oggi avessi faccio anche questo è arrivato questo per posto lo aspettavo due film della lego in dvd non lo apre assolutamente così poi farò vedere tutta la mia connessione playstation che avevo promesso appena mi arriva il pc nuovo ragazzi ricomincio a fare video come si deve ok come potete vedere è acceso a playstation perché ho visto provare il dry club ragazzi vi saluto e vi dico ciao belli ragazzi iscrivetevi al mio canale mettete un bel mi piace ciao ciao ciao